Forse il tetto ghiacciato, forse una banale distrazione e un 57enne di 9 è precipitato poco dopo le 9 di questa mattina dal tetto della sua abitazione al civico 15 di via Marini. L'uomo, da quanto è emerso finora, era salito sul tetto di casa per sistemare l'antenna. Qualcosa però è andata storta e il 57enne è precipitato da un'altezza di oltre 3 metri. Subito soccorso dalla moglie, medico di base Amarostica, è stato poi trasportato in ambulanza al San Bassiano dove l'uomo è arrivato in codice giallo. Sempre cosciente, il 57enne è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici che hanno costretto il trasferimento del paziente al San Bortolo di Vicenza. L'uomo, che ha riportato un serio trauma spinale e cerebrale, rischia ora la paralisi.